Grande soddisfazione è stata espressa dai consiglieri regionali Renato Claudio Minardi e Boris Rapa per la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche per favorire il rientro della statua di Lisippo sul suolo regionale. Abbiamo sottoscritto una mozione insieme al collega Rapa che è stata approvata dal Consiglio regionale perché abbiamo la consapevolezza che il Lisippo sia una grande opportunità non solo culturale ma anche turistica per la città di Fano ma direi anche per l'intera regione. Quindi l'impegno del Consiglio regionale è quello di stare vicino al comune di Fano in questa vicenda lunga, una vicenda giudiziaria che viene da lontano ma che ha visto lo Stato italiano vincitore da questo punto di vista. L'obiettivo è quello di recuperare l'opera, portarla in Italia e far sì che abbia una adeguata sistemazione nella città di Fano. L'impegno della regione è quello di sostenere la città di Fano, il comune di Fano e impegnarsi anche dal punto di vista finanziario affinché gli investimenti che dovranno essere fatti dalla città per accogliere l'opera siano investimenti che hanno a fianco alla regione perché l'opera non riguarda soltanto la città di Fano ma riguarda direi l'intera regione. Credo che sia una grande opportunità culturale ma anche di grande attrazione turistica. Il Lisippo è per il territorio regionale ma soprattutto per la città di Fano dove ci si auspichi ritorni una grandissima opportunità dal punto di vista turistico e economico, un indotto che potrebbe portare sul territorio non indifferente. In Lisippo ricordiamo l'atleta di Fano ha una grande potenzialità dal punto di vista culturale e questo potrebbe far rientrare l'intero territorio regionale messo in rete con una grandissima opportunità.